Vai! Andiamo! Vai! Mamma! Impressionante! Impressionante! Proviamo a suonare, a vedere se ci aprono, non penso che ci suonano in pochi qua oggi. Qua io non sono mai entrato, mi sarebbe anche piaciuto. No, questo l'omaggio è la casa, visto che ci sono stati qua due mesi. Ma è vero, picciteca? Eh, quello è il benvenuto. Ciao, cucina mia! Borse, no, towel. Aspettiamo una prova. Esce qualcosa qui? Pazzesco, pazzesco! Pazzesco tutto quanto. Qua, pellicano, sempre presente. Camera tua. Mamma mia! E camera tua. Camera mia. Tutte le volte che ci hanno rinchiuso durante... Un po' più ordinata. Un ultimo sguardo commosso all'arredamento. E chi si è visto, si è visto.